Buonasera cari amici, di nuovo insieme con Confagricoltura News, il nostro tradizionale appuntamento del mercoledì. Vado subito a salutare e presentare l'ospite di questa puntata, Nicola Rottoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura Mantua. Ciao Nicola, ben trovato? Ciao Andrea, grazie. Allora, parliamo in questa puntata di rinaturazione del Po, un progetto che dobbiamo dire ancora alle battute iniziali, che però Confagricoltura Mantua ha qualche puntino sulle i da mettere. Esattamente, dici bene, siamo alle battute iniziali, quindi è ancora tutto in fase di progettazione, però Confagricoltura Mantua esprime fin da subito, è bene dirlo, le sue perplessità. Si tratta di un progetto che prevede la creazione di veri e propri bacini lungo il corso del fiume Po, un progetto ambizioso, importante, che coinvolgerebbe oltre 100 comuni del bacino padano, non solo della provincia di Mantua ovviamente, e soprattutto impegnerebbe quasi 360 milioni di euro del PNRR, quindi insomma sicuramente un progetto dalle dimensioni... Ambizioso anche dal punto di vista economico. Assolutamente, assolutamente, questo è bene ribadirlo. Noi siamo contrari perché riteniamo che il progetto in questione rappresenti un qualcosa di non utile e non vantaggioso per sotto tanti punti di vista. Il primo perché sappiamo che la risorsa idrica, soprattutto negli ultimi due anni, è stata messa a dura prova dalle condizioni climatiche e quindi disperderla ulteriormente, allargarla, allargare il bacino e disperderla ulteriormente acqua sarebbe qualcosa di negativo per quanto riguarda l'agricoltura e la disponibilità di acqua per le irrigazioni. Soprattutto poi si parlerebbe anche di problemi per la navigazione, perché disperdendo acqua si toglierebbe risorse al fiume, quindi si renderebbe più difficile in certi punti anche la navigazione fluviale. E poi c'è la questione dei pioppeti, un altro aspetto molto importante per il quale il nostro presidente nazionale di sezione, Fabio Boccalari, mantovanissimo, ha preso posizione anche egli fin da subito. Il progetto di... questo progetto di rinaturazione vedrebbe dispersi tra i 6 e gli 8 mila ettari di pioppeti lungo le rive del Po e sappiamo cosa voglia dire, soprattutto di questi tempi, perdere una risorsa importante come quella degli alberi, senza contare che la filiera del legno del pioppo, il pioppo si usa tutto praticamente, la filiera del legname è di fondamentale importanza. In chiusura vogliamo ringraziare l'assessore Beduschi che ha preso posizione contro questo progetto e si impegnerà a portarlo all'attenzione della giunta regionale. Speriamo che nel prossimo futuro ci possono essere aperture positive dal nostro punto di vista. Assolutamente, grazie, grazie Nicola Artoni per essere stato nostro ospite, grazie a voi che ci avete seguito e appuntamento alla prossima settimana.